L'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno non registra particolari incrementi negli accessi al pronto soccorso. Il nostro comio salernitano sta rispondendo bene all'ondata di caldo. Non ci sono infatti particolari incrementi negli accessi al pronto soccorso dovuti al costante aumento delle temperature. Anche se non manca chi ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per colpi di calore, gastroenteriti causate dall'assunzione di bevande fredde, qualche bradicardia. Gli accessi, come ha sottolineato il direttore generale Nicola Cantone, si mantengono infatti nella media. Apprezzabile probabilmente la collaborazione delle famiglie e degli enti di assistenza delle persone anziane che ricorrono ai servizi ospedalieri solo in fase acuta delle patologie. Devo dire che stiamo rispondendo bene anche all'ondata di caldo. C'è un lieve e un leggero aumento di accessi in pronto soccorso dovuto all'emergenza caldo per casi di persone anziane che vengono colpite magari dal gastroenteriti dovuto al freddo caldo, l'aria condizionata, qualche bronchite dovuta alla sudorazione. Però sostanzialmente il Ruggi sta reggendo bene, considerato che abbiamo più o meno una decina, ventina di accessi in più al pronto scorso rispetto a quelli ordinari che sono circa 300. E se da un lato gli accessi sono nella norma senza picchi di evidenza, anche per quel che riguarda il ricorso agli accorpamenti di alcuni reparti per gestire e consentire le ferie al personale, diversamente da altri ospedali non ha interessato il Ruggi d'Aragona di Salerno. Questo devo dire grazie alla volontà, alla dedizione di tutto il personale. Perché è vero che sono stati autorizzati dei reclutamenti straordinari, è vero che sono arrivate delle unità di personale, però purtroppo, stante la necessità di rispettare pedisseguamente quelle che sono le procedure amministrative, non sono arrivati tutte le 120 persone, delle quali 90 comparto e 30 medici che attendevamo. Quindi i rinforzi ci sono stati, ma non nella misura che attendevamo. Di conseguenza c'è stato uno sforzo ulteriore del personale che già era in servizio e abbiamo garantito una chiusura minima dei posti letto. Anche il Daprocida ha dato una grossa mano. Tutti i plessi del Ruggi ha rimarcato il direttore generale Nicola Cantone e stanno garantendo un'assistenza efficace, tutti indistintamente ed in modo particolare anche il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello che per questo periodo estivo e di grande afflusso anche di turisti in costiera garantisce interventi nelle 24 ore. Sì, a Castiglione di Ravello abbiamo ancora delle criticità dovute all'emergenza estiva e alla carenza di personale, però anche lì stiamo lavorando. Si sta cercando di garantire tutti i servizi sulle discipline che garantiamo nell'arco delle 24 ore, laddove non ci si riesce delle 12 ore con delle riperibilità. Si sta veramente garantendo l'azienda in sicurezza e garantendo servizi su tutti i cinque plessi dell'azienda Ruggi. Ritengo però che si sta facendo un lavoro grazie all'impulso che il governatore ci ha dato perché è il primo a lavorare davanti e in prima persona quindi questo è di grandissimo stimolo per noi. Le dicevo, non si può lasciare a cuor leggero perché è un'azienda complessa con cinque plessi e di cui quattro con pronto soccorso. La sanità si fa 365 giorni all'anno sull'H24, però ritengo che possiamo dire che stiamo facendo un lavoro che ci consente di guardare con serenità le azioni che sono state messe in campo. Peraltro ho introdotto, ahimè, una tradizione che è quella di essere presente il 15 in azienda al fianco degli operatori quindi anche quest'anno in continuità con questa tradizione cercherò di garantire la mia presenza a Ruggi proprio per testimoniare la presenza della direzione a quegli operatori che purtroppo devono, quello che dicevamo, garantire ai 365 giorni all'anno l'assistenza sanitaria. Grazie. 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 Grazie.